Benvenuti, siamo con il professor Lorenzo Redaelli, docente di italiano e storia, programmatore, web designer, formatore certificato, blogger e amministratore dei gruppi Facebook, animatori digitali e intelligenza artificiale a scuola. Benvenuto professore. Grazie, grazie Fabio, grazie dell'invito e salve a tutti. Professor Redaelli, l'intelligenza artificiale è entrata a gamba tesa anche nel contesto scolastico. Pensiamo a ChatGPT e all'uso che ne fanno gli studenti. Cosa vuol dire interagire con questi nuovi strumenti e soprattutto siamo pronti a questo cambiamento? Grazie per la domanda Fabio, in effetti insomma è una domanda a cui è difficile rispondere perché non si è mai pronti quando ci si trova di fronte a cambiamenti così dirompenti anche delle nostre abitudini, se vogliamo. In realtà l'intelligenza artificiale non è una disciplina recente, anzi risale almeno agli anni 50 del 900. L'espressione è stata coniata nel 56 al Dartmouth College in una famosa conferenza, ma molto deve anche i lavori di Alan Turing, che elaborò il famoso test di Turing. Spesso però diciamo che la nostra idea di intelligenza artificiale è un po' viziata dall'immagine ereditata dalla letteratura fantascientifica o dai film di fantascienza, che ci danno un'immagine di un futuro distopico in cui le macchine possano poi controllare il mondo. Innanzitutto, secondo me, bisogna sfatare questi miti e comprendere che si tratta di una tecnologia di strumenti a supporto del lavoro umano, che hanno lo scopo di facilitare la vita delle persone, così come è il senso della tecnologia stessa. In particolar modo l'intelligenza artificiale vuole limitare le operazioni noiose e ripetitive di un compito, in modo che le persone possano concentrarsi sul fattore umano del compito stesso. Un po' come tutta la tecnologia, non soltanto l'intelligenza artificiale. Certo, con ChatGPT diciamo che sono cambiate un po' le cose, perché ChatGPT è stata una tecnologia, per quanto mi riguarda, dirompente, non soltanto nel campo del lavoro, ma anche nel campo scolastico, no? E quindi secondo me è anche normale che ci si sentano un pochino spaisati di fronte a una tecnologia del genere e si reagisca con un senso di rifiuto, no? Come se venissi a toccare qualcosa che fa parte della nostra sfera personale, emotiva, cioè delegare alla macchina qualcosa che noi facciamo sempre, non è facile anche da un punto di vista, secondo me, emotivo. Io ritengo che invece si debba avere una certa apertura verso il nuovo, perché esso prima o poi influenzerà le nostre vite. In realtà l'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite da qualche anno. Se pensiamo alle nostre interazioni sui social network, oppure, che ne so, alle piattaforme di streamer, che ci suggeriscono contenuti specifici per il nostro profilo, anche quelli sono algoritmi di intelligenza artificiale, agli acquisti, i consigli per gli acquisti, eccetera. Quindi secondo me noi dobbiamo conoscere questa tecnologia per guidare in qualche modo il cambiamento, no? E questo soprattutto nel nostro ruolo di educatori, cioè quello che voglio dire, non possiamo far finta che non esista l'intelligenza artificiale, essa è entrata nelle nostre vite e entrerà anche nella scuola. Questo ovviamente non vuol dire accettarla criticamente, Fabio. Ovviamente, dato proprio l'impatto grande che essa avrà, è necessaria anche una riflessione etica su questo impatto. È necessario riflettere, è necessario anche magari informarsi su persone che hanno già fatto queste riflessioni. Sempre ho trovato illuminante il libro di Luciano Floridi sull'etica dell'intelligenza artificiale, no? In cui c'era questo divorzio tra agire e intelligenza, no? Quindi ci sono tante tematiche che vanno discusse, quindi non un'accettazione critica, ma cominciare a capire di cosa si tratta e come cambierà le nostre vite e come cambierà anche il mondo dell'istruzione, perché è inevitabile. Ecco, però ci troviamo di fronte a un'intelligenza artificiale, che ormai l'acronimo è IA in italiano, no? Quindi, che si evolve in maniera esponenziale. Pensiamo semplicemente all'ultimo prodotto uscito del GPT-4 rispetto alla versione precedente, che è un cambiamento epocale. Con questi strumenti, ha ancora senso l'assegnare i compiti da svolgere in maniera tradizionale, che possono essere facilmente decorati da questi IA? Questo è un altro dei nodi cruciali dell'impatto dell'intelligenza artificiale a scuola. Io sono uno di quelli che ha iniziato ad utilizzare l'intelligenza artificiale nella didattica molto prima del rilascio di chat GPT. E quindi già prima mi veniva posta spesso questa domanda. A maggior ragione adesso che c'è chat GPT, mi viene chiesto, ma come faccio a segnare i compiti se poi a casa li fanno con chat GPT? Io rispondo sempre, magari in maniera anche un po' semplicistica, con due parole, flip the classroom. Nel senso che quello che io voglio dire è che la discussione sul cambiamento dei nostri metodi educativi precede di molto chat GPT. Cioè sono decenni che noi discutiamo sul fatto se sia adeguato o meno al giorno d'oggi assegnare compiti a casa oppure puntare su una didattica di tipo laboratoriale in cui gli studenti magari a casa guardano la lezione registrata liberando il tempo d'aula per fare delle attività insieme anche in gruppo, perché così riusciamo a sviluppare tante altre competenze, perché così possiamo effettivamente guidare lo studente, perché diciamoci la verità, se lo studente ha difficoltà a fare un compito a casa e sa che esiste uno strumento che lo fa per lui, ma come fai a negargli l'utilizzo dello strumento? È impossibile. Questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare, vuol dire che magari le attività pratiche le facciamo insieme in classe e puntiamo su una didattica di tipo laboratoriale. Ma, ripeto, questa discussione precede, secondo me, di molto chat e GPT, che forse ha dato una spinta verso questo modello di didattica di cui discutiamo da molto tempo. È tanto che si parla dell'efficacia o meno della lezione frontale e dell'adozione di modelli diversi, tra cui quello della flip the classroom, soprattutto per una didattica basata sulle competenze. Ecco, Lorenzo, diciamo che purtroppo vige ancora un certo tradizionalismo nell'ambito educativo e tu ci hai fatto l'esempio di come tante metodologie che già da tanti anni sono state introdotte all'interno del mondo della scuola, faticano a prendere piede. Però a questo punto, visto che tu già usi l'intelligenza artificiale nell'ambito scolastico, ti voglio chiedere se ci vuoi fare alcuni esempi di come è possibile fare didattica con intelligenza artificiale. Certo, gli esempi sono tanti, io ho fatto tanti esperimenti, l'importante secondo me è partire da un punto preciso, avere in mente quale competenza vogliamo far sviluppare i nostri studenti e poi scegliere lo strumento. Uno di questi strumenti sicuramente può essere l'intelligenza artificiale, ad esempio con app generative, non soltanto chat e GPT, ad esempio Midjourney, ho fatto un lavoro di educazione cipia con i ragazzi ai quali ho chiesto di descrivere le loro smart cities ecosostenibili del futuro, quindi di immaginare le loro città del futuro e descriverle nella maniera più accurata possibile. Poi abbiamo tradotto in inglese queste descrizioni e infine le abbiamo date in pasto a Midjourney che ha prodotto delle immagini. Abbiamo fatto poi un contest per vedere quale di queste immagini fosse più rispondente alla descrizione testuale che gli studenti avevano fatto e qui ci sono in gioco un sacco di competenze con gli studenti. La stessa cosa si può fare anche con DALL-E che è un'altra app generativa, tra l'altro sviluppata sempre da OpenAI, che è la stessa software house che ha sviluppato chat GPT. Ad esempio con loro in gruppi gli ho chiesto di immaginare il loro modello di scarpette russe per l'eliminazione della violenza sulle donne, quindi ogni gruppo ha in qualche modo prototipato una scarpetta russa, dopodiché abbiamo preso queste immagini generate dall'intelligenza artificiale sulla base della loro descrizione testuale degli studenti, le abbiamo importate in Canva e abbiamo preparato dei volantini sull'argomento. Anche per il Dante Dì stiamo preparando delle attività tra metaverso e, a me non piace tanto la parola metaverso, la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale, però insomma poi magari ne parlerò quando saranno pronte, ma anche lì insomma è richiesto un grande studio dell'autore, in questo caso di Dante, per poter poi sviluppare il modello che stiamo preparando. Quindi in realtà come vedi, cioè queste attività innovative comunque richiedono le conoscenze di tipo tradizionale, comunque richiede uno studio sugli autori, poi dopo lo strumento può essere un veicolo per sviluppare le competenze necessarie agli studenti e soprattutto per quello che mi riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in questi anni, mi sta aiutando molto sul campo della motivazione degli studenti. Io lavoro in provincia di Caserta, precisamente all'Itegallo di Aversa e spesso insomma il contesto non è semplicissimo, o meglio gli studenti hanno bisogno di una motivazione ulteriore e questi strumenti sicuramente possono aiutare. Poi ovviamente come dicevi tu c'è il chat GPT, questa tecnologia rivoluzionare che utilizza il natural processing language e questo lo puoi usare in tantissimi modi. Io quando l'ho mostrato ai miei studenti sono rimasti completamente stupiti perché non riuscivano a capire che fosse una macchina a parlare, tanto insomma è efficiente il modello nel produrre dei testi, no? E quindi abbiamo provato a fare un po' degli esperimenti, per esempio abbiamo provato a fare la lezione al contrario, cioè invece di partire dalla spiegazione siamo partiti dal quiz. Abbiamo dato in passo a chat GPT un quiz, domanda per domanda e per vedere se effettivamente riuscisse a rispondere, a individuare la risposta giusta di quel quiz a risposta multipla e fornire anche una spiegazione. Nella maggior parte dei casi, poi ti spiego perché dico nella maggior parte dei casi, c'è riuscita, ok? Quindi è come se fosse un assistente personale, se tu non sai la risposta una domanda e sei a casa da solo a studiare, magari devi fare una ricerca, prima o poi ci arrivi, devi andarti a rivedere il libro, però a chat GPT sicuramente ti può aiutare anche in questo. Oppure abbiamo simulato conversazioni tra personaggi storici, è un'altra cosa che tu puoi chiedere a chat GPT, quella di simulare conversazioni tra personaggi storici. Poi come detto tu è uscita chat GPT 4, che è basata su GPT 4, allora io la sto provando, però non è ancora stata rilasciata la multimodalità, quella che in qualche modo cambierà proprio di molto l'utilizzo di questi software. Addirittura sul sito fanno vedere che da un semplice disegno di un sito web, chat GPT è in grado di fornire il codice per realizzare questo sito web. Questa è un'altra attività che magari vorrei fare con i miei studenti, in modo che loro si possono dedicare all'attività di design e visto che noi non insegnano un indirizzo informatico, lasciare l'elaborazione del codice all'app. Sono molto curioso di vedere come funzionerà la multimodalità. Poi insomma io faccio anche corsi ai docenti e quindi la domanda che tu mi hai fatto io l'ho posta anche a loro, ho detto che attività fareste utilizzando chat GPT con i vostri studenti? Io l'ho messa proprio come compito nell'ultimo corso che ho fatto su Scuola Futura e sono uscite delle attività bellissime che hanno messo, che hanno fatto diciamo funzionare chat GPT insieme ad all'I per esempio o anche insieme ad altre app che creano modelli di machine learning come la Teachable Machine di Google e sono tutte app che l'utente medio può utilizzare anche senza avere una conoscenza diciamo informatica, no? Quindi proprio da utilizzatore più che da programmatore. Ad esempio ricordo una bella attività che ha fatto un docente sulle galasse che poi è riproposto in classe e mi ha detto che è andata molto molto bene. Altra attività che possiamo fare è quella di trovare l'errore perché spesso ci si dimentica che chat GPT non è un motore di ricerca, è un modello generativo di linguaggio e quindi non è esente da errori. Tant'è vero che con la release 4 loro hanno specificato che fa il 40% in meno di errori ma comunque li fa, quindi un modo di utilizzarlo al contrario invece di per avere la risposta giusta per identificare eventuali errori che il modello ha fatto. Quindi secondo me le attività sono veramente tante che si possono fare, però io ribadisco quello che ho detto all'inizio di questo discorso, cioè bisogna partire dalla competenza, bisogna decidere che tipo di competenza si vuole far sviluppare e poi costruire l'attività intorno. Capisco l'entusiasmo per lo strumento, ma se non si ha un obiettivo didattico in mente è soltanto uno strumento. Ecco, chiediamo con un'ultima domanda. Tu parlavi che sei un formatore e quindi la formazione è fondamentale in tutti questi anni, ne abbiamo parlato prima anche sulla didattica, un nuovo modo di fare didattica, però ormai sta diventando un fenomeno con un carico troppo oneroso per i docenti, considerati i vari ambiti in cui essa è richiesta, dalla didattica classica alla didattica speciale e ori alle nuove tecnologie. Quando è importante restare collegati con la realtà che ci racconta e quando è impegnativa una formazione su questo ambito tecnologico? Adesso sembra che io porti acqua al mio mulino in quanto formatore, però secondo me è un aspetto fondamentale. In ogni lavoro e a maggior ragione nel lavoro di docente la formazione secondo me è un aspetto fondamentale a cui si dovrebbe dare il giusto peso, ma anche insomma il giusto tempo, perché come giustamente sottolineato noi docenti siamo sempre presi da tante altre attività che ci sottraggono tempo e che comunque vanno fatte. Quindi è un carico in più quello della formazione, soprattutto quando poi si parte da una formazione che come dici tu sulle nuove tecnologie non è detto che sia nelle corde di ognuna, quindi può risultare anche pesante, mi rendo conto assolutamente. Tant'è vero che anche io con i poli STEM con i quali collaboro, diciamo che ultimamente stiamo cercando di ridurre il numero di ore, non fare più corsi da 20-25 ore, ma corsi su un argomento specifico magari da 12-15 ore a massimo. Ad esempio l'ultimo corso che sto facendo sull'intelligenza artificiale chatbot per un po' lo STEM abbiamo provato a realizzare dei chatbot didattici, cioè anzi i corsisti, visto che il corso è già finito da qualche mese, li stanno facendo realizzare gli studenti, dei chatbot che sono dei veri e propri assistenti agli studenti. È chiaro che secondo me una buona formazione su IA, Metaverso, Blockchain e tutte queste nuove tecnologie è fondamentale anche per evitare di restare chiusi nell'ambito dei programmi, il mondo va avanti e la scuola deve essere in qualche modo un collante con il mondo esterno e con quello che gli studenti troveranno una volta finito il loro percorso scolastico. Ripeto quello che ho detto all'inizio, secondo me è impensabile ignorare che queste tecnologie ci siano che sono già all'interno delle nostre vite e che condizionano le nostre vite, quindi una formazione va fatta, deve essere secondo me di stampo laboratoriale, deve essere un numero di ore congruo affinché gli insegnanti non esentano il peso e deve essere collegata alla realtà, quindi l'intelligenza artificiale è una cosa che esiste, che condiziona le nostre vite e che condiziona anche il mondo del lavoro e quindi è necessario secondo me che in maniera trasversale tutti i docenti siano formati sull'argomento e provino ad introdurlo in classe. Il problema della formazione è un problema spinoso come giustamente hai sottolineato, è di difficile risoluzione proprio perché gli impegni sono tanti e spesso subentra anche la demotivazione nel formarsi. Io ti ripeto, ritengo che sia un aspetto fondamentale della nostra professione quello di essere informati, è quello di puntare innanzitutto sulle competenze all'interno della propria disciplina ovviamente e a cercare di collegarsi con il mondo e con quello che gli studenti troveranno fuori per evitare che essi escono da scuola impreparati al mondo, questo è un obiettivo fondamentale che le scuole dovrebbero proseguire. Grazie professore Belli, questo è stato con noi. Grazie Fabio, grazie a voi.